Mi piace filmare queste cattoline con la mia penda che ce l'ho da vent'anni anche perché so che voi che prendete questo DVD siete affessionati un po' anche a me e anch'io sono molto affessionato a voi quindi volentieri faccio tutte queste film ciao adesso però non aspettate fino all'ultimo